Futuro sicuro in 5 minuti è reale. Hai sentito parlare di Crypto Twitter ma non hai mai pensato di investire? Crypto Twitter è stato creato per persone come te. Il genio della tecnologia Elon Musk vedendo i prezzi alle stelle nel prossimo inverno è pronto ad aiutare le persone comuni a risolvere i loro problemi economici. Qui è quando gli è venuta l'idea di creare Crypto Twitter. Dopo l'acquisto di Twitter si è imbattuto nella connessione diretta tra il comportamento degli utenti e il mercato finanziario. Prevedendo così l'ascesa e la caduta delle criptovalute. Secondo Elon Musk i migliori programmatori di Tesla e Twitter hanno collaborato con le autorità del paese per aprire l'accesso a un programma in cui ogni cittadino italiano può guadagnare 300 euro al giorno. Apre e chiude operazioni redditizie nel mercato finanziario in modo completamente automatico. Senza alcun intervento umano. Grazie. Grazie.